Anche per il Ministero dello Sviluppo Economico, Omba non deve chiudere. Il Mise ha infatti dichiarato dopo un incontro con i rappresentanti sindacali che da Natale lottano per salvare la posizione di oltre 100 lavoratori che sussistono ad oggi diverse manifestazioni di interesse volte all'acquisizione dell'azienda che potrebbero favorire un ripensamento da parte della società sulla liquidazione. La famiglia Malacalza, capo della società, fino ad ora non ha mai voluto essere presente ai tavoli convocati in regione. Il prossimo è stato fissato per il 22 di marzo. Da oggi fino a quella data il Mise si è impegnato a valutare le manifestazioni di interesse e a ricontattare la proprietà per un suo coinvolgimento diretto sulla vertenza.